Tre... eravamo in tre in squadra, no? E allora io ho detto, vabbè, se abbiamo perso. Il nostro compagno Quitta muore. Erano in cinque contro uno, me li sono fatti tutti. E per poco non vincevamo pure. Vediamo di giocare bene anche in questa... stificata. Bravo! Trovate la posizione del contenitore di biorischio. Ok, ora dovreste sentirmi che c'era gente che era in pelle. Contenitore di biorischio trovato. Aspettate un attimo che vado a farmi un party. Ok. Ok, ora sto in party. Bene, spunghi. Magari c'ho qualcuno qua, non lo so. Niente. Ok. Vediamo di salire. niente vediamo di far qualche kill non so come si vede vado un attimo a vedere non so come il mio 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 Barricate la stanza, dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio. Il suo nemico ha individuato il contenitore di biorischio. Il muro è stato rinforzato. Boh, non so come mai non riesco a vederlo. Non dovete trovare l'obiettivo. Bene. Non solo l'abbiamo trovato. Ok, ho lanciato il suo. Eh, infatti l'ho trovato qua. Menti caso che hanno fiuso. Ti alzo la DS. Bene. Sì, però non barricati dentro così, eh. Dai. Non barricati dentro così. Sì. Che schifo. Eh? No. Dimmi. Dimmi come manchi lato. l'ultimo. No, dai che palle però. Devo mettere l'audio. Perché sennò non sento queste cose. operatore alleato. Ok. Le X-Kairo si incippotano. Sventate ulteriori accessi al contenitore. Beh, io non so se riesce. Ah, infatti. Il nemico sta difendendo il contenitore di più rischio. Missione fallita. Difensori neutralizzati. Qua io prendo fiuso. No. Non l'ho preso. Termite. O glas. Beh, prendo glas così a caso. Un sistema panorale che sia utilissimo. Trovate il contenitore di biorischio. Eh. Il contenitore di biorischio è stato individuato. Non so neanche come si senta l'audio. Perché. Ieri tipo le cuffie in live facevano casino. Quindi mi ero montato il microfono. ma non ci sono. No. Qua glas non serve più. Qua. Non serve più a niente. Stesso spawn di pianta. Potrebbe essere utile il termite. Metti caso che però provo a non portare sponchi. E' infatti Aspetta 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 Ecco lui Via Ok non c'è niente Chimere no Bene non va neanche male Ok Drone estorbente operativo Drone estorbente operativo Drone estorbente operativo Drone di Twitch Ok, hanno killato il mio compagno Qui finisce male, regga Ok, l'ho visto passare Tornate a occuparvi del contenitore Da dove? Ma perché non lo sento io quando apro? Non lo so Da notare che c'è già il dislike Nella mia live Ma il bimbo minchia di merda Di pinzi Molto probabilmente Ho pure i suoi 10.000 account fake Mancano 15 secondi Mancano 10 secondi Mancano 5 secondi Un solo difensore rimasto Attenzione Tant'è due feriti Vediamo chi mora per prima Penso forse È fia È fia però Perché vuistè fia? È fia dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio difendete la stanza il nemico ha individuato il contenitore di biorischio capito che non si è individuato capito capito mancano 10 secondi mancano 5 secondi rinforza il muro il nemico ha individuato il contenitore di biorischio nemici trovati riesce attivo in posizione si ma dove sono i miei compagni quando succede sta roba però guarda non ci sono mai vai killer ma che ci vuole donna mo si fa killare pulso puoi vedere vabbè alleato rimasto proteggete il contenitore di biorischio non sarà peggio per te squadra d'attacco eliminata missione completata non ma ma non ma non ma Andiamo a mettere uno spawn qua. Andiamo a ritrovarlo. Qua non lo assicuro. Aspetta. Sono a piano terra. In camera che ho letto, forse. Sì. Sono entrato. Ancora 10 secondi. Ando qua sotto. 5 secondi all'inserimento. Raggiungete il contenitore di biorischio e difendetelo. Vai. Mettiamo quello che vogliamo fare spawn. Sì. Ma stai calmo. Sì. Ci vuoi essere due. Un solo difensore è rimasto. Oh, tirami su, tirami su. Calma, ci sono qui io! Guarda. Pronto a detonare. Guarda, ma ci vado a capare. Il lato. Difensori neutralizzati. Vittoria per gli attaccati. Grande. Tra poco la devo togliere la live. Perché vado a mangiare. Però, dai. Il poco che riesco a fare la faccio. Qua potrebbe andar bene Jäger. Voto pure io camera da letto. Loro che votano. Allora voto anch'io. Sarà da te. Tanto l'abbiamo vinta questa. Molto probabilmente è 6-3v2. Cioè 5v2, direi. Ah, tra l'altro volevo dirvi che è un account. Un account. C'è un account. Un account. Chi è questo è? Un account. Bop. Due barricate. Qua una. Qua una. mancano 10 secondi il contenitore di biorischio 5 secondi per rallentarli amaro sopra un po' li ho tolto manca più il contenitore chi l'ha assistito andiamo a vedere il caveiro secondo me lo kille caveiro si ma si è sopra sta merda eh assist quanto ho fatto 3 kille un assist buono 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 beh madonna quanto sono basso vabbè magari non lo so farò qualche live in sti giorni dove salgo un po' ma io adesso stop la live anche se non è durata niente però io lo stopo perchè adesso devo cenare quindi non avrebbe senso bello sto con la live spero vi sia piaciuta lasciate like bello